L'approfondimento di un minimo sulle regioni meridionali italiane e il contemporaneo rinforzo dell'anticiclone sull'Europa centro-settentrionale determinano l'attivazione di un intenso flusso di correnti fredde nord-orientali destinato a persistere anche nella giornata di sabato. In Toscana venerdì 4 marzo molto nuvoloso nel corso della mattinata con possibili precipitazioni sparse, neve oltre gli 800-1000 metri. Graduale miglioramento dal pomeriggio con cessazione dei fenomeni. Venti da deboli a moderati e in ulteriore rinforzo dalla sera specie su arcipelago e litorale centro-meridionale. Mari poco mossi fino a mossi a largo dal pomeriggio, temperature massime in calo sensibile in montagna. Sulla nostra provincia cielo nuvoloso, miglioramento nel pomeriggio. A Lucca temperatura minima 4, massima 12 gradi. A Castelnuovo minima 1, massima 11 gradi. A Viareggio minima 5, massima 13 gradi.